Combattere la malattia pedalando è la resistenza messa in campo da Lorenzo Sacchetto contro il morbo di Parkinson che 15 anni fa ha fatto eruzione nella sua vita. Lorenzo insieme alla moglie Raffaella il prossimo 19 luglio partirà in bici per arrivare a San Giovanni Rotondo a saltuario di Padre Pio, la partenza da Sant'Urbano, comune della bassa padovana dove i coniugi vivono. Attraverso lo sport ho visto che io pedalo un po' per tutti, per quelle persone che hanno una disabilità. La bicicletta mi ha portato ad imparare a camminare nuovamente e la forza di trasmettere agli altri la possibilità di lottare contro un male che ti accomuna perché può essere un Parkinson, può essere qualsiasi altra forma di malattia che porta a una disabilità. Però se la persona non si affloscia sul divano e vuole mettersi in gioco ha la possibilità di giustare la propria vita e di vivere al meglio. Ma questa è già la seconda impresa in bicicletta di Lorenzo. Lorenzo ha trovato un grande beneficio con l'uso della bicicletta e soprattutto lo sport quotidiano. L'allenamento continuo ha permesso di affrontare l'impresa, di andare a Roma. In sette giorni, l'anno scorso, ha pedalato fino a Roma un'impresa fatta dopo aver affrontato un delicato intervento al cervello e una lunga riabilitazione. Subito dopo l'impatto di dover ricominciare, quindi rimettersi un po' in gioco, abbassare la terapia farmacologica per dare spazio alla stimolazione profonda. Un momento un po' difficile dal quale siamo usciti proprio attraverso lo sport. La bicicletta, abbiamo tirato fuori la bicicletta, ci siamo messi ad allenarci con un obiettivo, una motivazione importante. Arrivare a Roma dal Papa, Papa Francesco, ma anche sulla tomba di Papa Giovanni Paolo II, una persona che ha avuto anche lui il Parkinson. Mercoledì mattina alle 6, partenza da Sant'Urbano, nove giorni di viaggio con tappe lungo la riviera Adriatica fino alla Puglia. Ogni sera ci sarà un meeting in cui si può confrontare con dei medici di varie tipologie, medici, associazioni del posto, perché noi cosa facciamo? Abbiamo deciso di mettere a beneficio di questi paesi che andiamo a toccare e che ci ospitano la possibilità di parlarne della malattia.